no di qua di qua no aspetta di qua scusa di qua aia aia vedeva donerà la parte fatta secondo me non prendo danno la carta dame il cuore andiamo di qua e quindi dobbiamo scendere andare di qua no di qua di qua di qua ho una voodoo child aspetta che non la trovi mamma mia dove cavolo è andata a finire mamma mia ma guarda che era a destra si ma andiamo a sinistra e così ci spawna spawna dove abbiamo meno strada se non sbaglio si spawna dove abbiamo meno strada ma no qui aspetta andiamo ancora un po' più a destra caro st stralli eh sai qual è il problema? puoi tornare indietro adesso? eh vabbè abbiamo le pozioni torniamo indietro veloce vabbè torniamo indietro corriamo adesso non stiamo lì a fargli danno si si ecco qui dovrebbe andar bene speriamo aspetta eh vado? vai poi andiamo a destra subito eh si occhio eh vabbè eh vabbè cavolo stupido di mistrali io questo cosa non so colpirli sup this is sparta grazie è stato un piacere ho vinto il premio voodoo lo stavo dicendo ma this is sparta eccola di qua e di qua andiamo corri 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 B B ok perfetto qua sopra il sacco qua sopra il sacco lui camminava sulla lava sento il sacco chi è witch doctor? non lo so no è col volo flash scheletrico veloce no ma non ci tira più dentro scusa ok siamo pronti di nuovo ok cos'è sta roba? api ok ce l'hai tu la la bambolù no si ce l'ho io ok pronti allora spostati un attimino si anzi ti aspetto di laio direttamente buona fortuna no 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 io muoio aspettami ok ci sono ci sono via e non è tornata la guida è vero ok vabbè siamo un attimino è sparita però la bambola e ci credo si brucia quando va nella lava vuoi provare ad andare sulla lava? è comodale a ricercarla vabbè oh è una buona cosa sai perché? almeno adesso io torno di sopra io sto qua sotto allora intanto ci facciamo il guarda no facciamoci la casetta in fondo facciamoci la casetta in fondo bravo e facciamo porto al letto porto al letto si ah mi sono dimenticato che c'è anche questa il più più oh merda più oh merda è partita la musica del boss eh magari non è ancora arrivato in fondo no vabbè eh magari non è ancora arrivato in fondo al mondo strano quanto tempo ha passato? oh merda ah 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 mi ha preso e mi ha ucciso ah 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 mi sono anche tornato su perchè ci avevo letto ma come che, quanto tipo è passato da quando abbiamo fatto il primo tentativo? è strano perchè ho passato un po' di te Eh, è lento, eh Lento? No, comunque è un po' più debole Perché non fa un cazzo di da Un po' che avevo le pozioni con le tank Non fa un cazzo di da Eh, già che sei sopra Fammi le pozioni di difesa Non ne hai? No, mi serve Mi serve una pozione di difesa E una quella che Il problema è che c'è la Blood Moon fuori E sai com'è Ci sono i zombie che entrano Riesci a farmi danni quella che quando mi colpisce Si fa danno anche lui Guarda, dovremmo avercela ancora una Ehm, no Però ci serve il cactus lì, mi ricordo Vabbè, allora niente, ma Ah, è arrivato il giorno Che culo Andate via zombie Sciò Sciò Via Ok Vabbè, dov'è la guida? Oh no, hanno mazzato la guida Gli zombie Davvero? No, no Un attimo Questo è un NPC Eh, non ti ricordi che abbiamo letto che ne era arrivato uno nuovo? Ma hanno zombie Lol È Witch Doctor È quello lì di È quello di Dota Guarda che si chiama veramente Witch Doctor Sì, sì NPC Sì, sì Eh, ma non c'è la guida E vabbè, allora niente Crafting, non me li ricordo Allora niente, ma non c'è la guida Ok, sta un po' insatta alla fine Io arrivo a un minuto Sì, sì Sì, sì 6 se non serve moro ho fatto fatto per farlo qua ok allora se non c'è di rai lo avuto per te che la prendo e direttamente tutto sto farmi la doccia di lava un uomo legna ora usiamo la legna dammela me adesso aspetta minore non mi piace al speciale non so perchè amica strafasti di avere i muri di legna nel diventario c'è buco non mi piace devo ancora settarlo spawn però eh eh si adesso comunque la strada adesso è perfetta anche per andare a buttare la bambola quindi perfetto e allora siamo stra pronti per batterlo tre volte il wall of flash tipo eh oh no aspetta è vero la prima volta che lo battiamo dal martello martellone no la seconda volta invece se non sbaglio da un oggetto a caso può anche dare la spadona a quella gigante è presente la spada più grande di terraria anche dell'excalibur è più grande ah si 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 è presente sembra quella di trasformare la chiamo la spada di trasformare muovo ah gli assomiglia un po' andiamo trovando ok pronti a me l'onore pronti 3 2 1 via via mao corre corre corri 30 boswell o cerca di non avanti anni di non avanti la rai anche io non ho lontanati troppo sono qua ci ammazzano di nuovo cosa stai facendo non so tipo a porta aerei si a terra qui si è fatta ahahah sulle scale aia perattuna per la città si ahahah ecco lì mi dimenticavo dei rai dei laser io vabbè non è guarda le mie pettine guarda le mie pettine no adesso vado io ok stai iniziando a cagare vermi via giù 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 ecco i vermi sai che uccidendo i vermi ti becchi un cuore al 100% mi pare i api sono strautili per uccidere su 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 ok di spada vai fuori vai fuori è già 6.000 è già 6.000 buono qua visor occhio no non vedo gli occhi ah no è sotto c'è la strada oh guarda una cosa bella però non ci può colpire con il laser da qua sotto ok ok con quella merda forse si mi sbocca proprio eh esatto ecco inizia a sparare veloce 4.000 ma quanto veloce spara oh andate a pettine eh inizia a sparare più veloce di del mini shark io ho 3.40 di vita 3.80 io non mi ma quanta questi vermi del cavolo aia cioè siamo tipo a a ad un quinto di tutto il percorso e l'abbiamo già battuto vabbè l'abbiamo un po' sopravvalutato eh un po' tanto 800 700 cerchiamo aspetta non facciamo spawnare la casetta qui fermo 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 fa l'uscire fa l'uscire così non ci spawnano dentro le case oh attento che prima perdiamo qui 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 no no colpiscino buona questo dove ha perso la casetta cosa c'è dato cazzo martello oddio si ah no ma quanta cavolo di ho creato questo eccolo qua di aici di aici e spirit of light and dark e spin release perfetto oh c'è dato tipo un fucile d'assalto poche parole siamo entrati in hard mode questa è mia eh unica cosa attua eh eh vieni david mini shark eh vieni mi ci sono affezionato tanto io lo metto in casa cioè poi non lo uso cosa mi hai dato scusa eh la tua big gun ah solo eh non è che c'è qualcosa di ok ci siamo abbiamo battuto il wall of flash adesso siamo pronti per tornare a casa perchè sta roba questa roba era rossa prima no tieni 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 ti faccio un bel regalo vabbè ma questo che cos'è questo è un primo mostro dell'hard mode cream slime oh vieni tieni aspetta un attimo aspetta un attimo puffintosh aspetta aspetta ma questa cosa era rossa prima cosa cosa questa no oh cavolo ah questa no vero ho paura io non non tornare nella casa ok vediamo un attimo cosa cavolo è successo beh almeno adesso sappiamo che la cri ah è qui ok si è io ti ho dato il il coso il minishark cosa ti serve no non mi serve il minishark occhio ti sta seguendo ho visto perchè ho questo uccide edo salto della marina m16 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 eh ma io non ho i futuristi ma io non ho munizioni caro cioè mi ho dato il coso senza munizioni beh te le prendi eh ma adesso sono senza munizioni ma aspetta ma guarda che ah no non abbiamo ancora passato sì ma strano eh sì che l'abbiamo passato ok vedi cosa fa e cosa succede fare le stradine così ci sono appena finiti i buff adesso c'è durata due minuti la battaglia vieni qua eccola qua allora no devo dire una cosa nei trailer vedete noi dovremmo andare e no dobbiamo andare per forza a romperlo tutto perché se ogni volta che spagnolo spagnolo parla no basta farne un altro facciamo un altro no va bene aspetta ok si no sento la musica di giallo fatta rompilo rompilo vai eh amico mi sa che tu morirai qua e mi dico oddio cosa dimmi cosa vedi e scrivimi no tipo il eh ma io un dirò chiedermi una cosa sono figo senza armatura merda oh la la nostra prima notte ss con il nostra prima notte di nozze ok di nozze prima notte di hard mod sarà casino no gli zombie sono ancora delle mezzoseghe eh eh ma quel quel cosa spara tre colpi e ne spreca tre non lo so perché sarebbe un po' una bastardata clicchi una volta e rendi tre colpi mmm dov'è il coniglio? quale coniglio? oh dovevo uccidere qualcosa o qualcuno abbiamo ucciso wall of flash non ti basta? no coniglio mmm uccello ok si ok boh ho ucciso uccello e un coniglio ho fatto abbastanza vinto eh giornata fruttuosa per fatto eh allora oh ok togliamo questo tra l'altro mi sono accorto come un idiota che io ho tutte le frecce ma non ho un arco bello allora mini shark bah 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 oh guarda quanto sono figo senza armatura possiamo buttare via questo schifo e devo tornare io domarmi la normatura adesso la matura di come alto tipo non tengo la trattaruga ninja più sì ma quello è un estetico ok comunque adesso abbiamo battuto wall of flash io direi di terminare qui la porta è per forza allora abbiamo battuto l'uola flash adesso nella prossima parte credo ci sistemare un po' e andremo subito a prendere a prendere gli altari a prendere gli altari a prendere gli altari ovvio e vabbè ci sentiamo la prossima ciao alla prossima pronti 3 2 1 via dov'è eccola oh cavolo è tipo un toro ahahahahah perchè tutti quanti i boss fanno lo stesso verso scusa eh mamma mia solo 8 di faccia stai sotto il miele di ritienere la vita grazie